Come è lei regina Elisabetta II celebra i gloriosi sette decenni sul trono? Perché non affrontare il nostro quiz e mettere alla prova la tua conoscenza della famiglia reale proprio qui, le celebrazioni del giubileo di Platino promettono di portare il meglio del patriottismo, dello sfarzo e dello sfarzo britannici nel Regno Unito da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno. La regina ha battuto i record stabiliti dai suoi predecessori per diventare la prima monarchia britannica a raggiungere 70 anni sul trono, un risultato davvero straordinario di cui la nazione si rallegrerà in questa settimana, la regina salì al trono nel 1952 dopo la morte di suo padre, re Giorgio VI. Poi la principessa Elisabetta aveva lasciato il Regno Unito con il duca di Edimburgo per un viaggio reale all'estero, ed era tornata a Londra come regina Elisabetta II, a soli 25 anni. Ora 96enne, la regina ha lasciato saldamente il suo segno nella monarchia britannica e loda l'incredibile rispetto dei suoi sudditi per la sua incrollabile dedizione ai doveri reali. Quindi pensi che la tua conoscenza della storia reale sia all'altezza. Mettiti alla prova con il nostro quiz qui sotto. Mettiti alla prova con il nostro quiz qui sotto. Mettiti alla prova con il nostro quiz qui sotto. Mettiti alla prova con il nostro quiz qui sotto.